Meteopatici o meteodipendenti? Quanto ci condizionano nelle nostre scelte quotidiane le previsioni meteo? E le app sui telefonini o i siti web? Quante volte al giorno li guardiamo? Il fenomeno meteo sta dilagando ormai anche da noi, senza raggiungere certo i livelli statunitensi dove ci sono interi canali televisivi dedicati alle previsioni del tempo e i conduttori sono delle vere star ben lontane dal nostro colonnello Bernacca di compianta memoria secondo gli esperti però le notizie legate al clima sono tra le poche in grado di condizionare veramente la giornata degli italiani ma c'è chi non le considera affatto Lei quando parte per una vacanza guarda i siti internet per il tempo? No. Meteo? No. Parte e si affida a com'è il tempo? Sì, certamente sì. Ci guardi? Sì. Ti condiziona nelle scelte che devi fare? Eh, dipende. Dipende dove devo andare, cosa devo fare, anche dall'uscire di casa, se è bello prendi il motorino, se è brutto prendi la macchina. Beh, non si fa condizionare più di tanto? No, non più di tanto, ecco. Ci guardo a livello indicativo ma poi finisce lì, ecco. Un po' come l'oroscopo, diciamo. Secondo uno studio promosso da Meta Comunicazione attraverso Focus Group, ben il 67% dichiara che sono le ultime notizie che guarda prima di andare a dormire e i motivi sono i più svariati, lavoro, scelta dell'abbigliamento e naturalmente viaggi o vacanze. Voi quando partite per le vacanze ci guardate nei siti internet del meteo? Sempre. Sempre? Sempre. Costantemente? Costantemente. Perché non vado mai in vacanza, quindi faccio parte di quella piccola schiera che la vacanza non conosce cos'è, quindi fondamentalmente io lo guardo il meteo, lo guardo solo per il lavoro. Sul telefonino c'è la lap meteo? Eh sì. Ci guarda? No, perché la vacanza è la vacanza, comunque. E sulle vacanze ogni anno puntualmente gli operatori turistici dicono basta al meteoterrorismo, Reo, a loro dire, di far clorlare le presenze turistiche o mandare deserte le manifestazioni. Ma alle volte basta poco per non farsi condizionare, i vecchi metodi sono sempre i migliori. Io mi alzo la mattina. Sì, fatti nelle cinque e vedo come è il tempo. Però insomma non ti condiziona. No, non mi condiziona, perché tanto è così. Veramente, alla mattina e vediamo com'è.